cari amici il mio canale youtube ha fatto boom click dopo click in questi giorni ha superato di 500.000 visualizzazioni grazie alla vostra attenzione ed apprezzamento commentate condividete esplorate fra le nove playlist e certamente troverete un video di vostro interesse grazie ancora la forza del canale siete voi grazie a tutti grazie a tutti